A buona caccia sul mare del nord con navi da guerra germaniche. Un aereo catapultato parte in esplorazione. Un convoglio nemico non dovrebbe essere lontano e occorre avvistarlo al più presto. Dei sottomarini accompagnano il naviglio di superficie. L'aereo è di ritorno e sarà issato a bordo al più presto. La squadra aumenta di velocità, la breda non è lontana e non avrà tempo di fuggire. Mare grosso e ventaccio non rallentano la marcia. Convoglio in vista. Le navi nemiche cercano di sfuggire dietro cortile di nebbia. Un incrociatore apre il fuoco contro la nave armata britannica di scorta al convoglio. Sul mare grosso un'imbarcazione di naufraghi cerca di raggiungere le navi germaniche mentre la nave è affondata a cannonato. Un'imbarcazione di scorta al convoglio. Un'imbarcazione di scorta al convoglio.